e ciao a tutti ragazzi finalmente è arrivato dopo qualche giorno di attesa oggi un rapido unboxing e poi nei prossimi giorni andremo a vedere per bene quelle che sono le sensazioni di utilizzo allora apriamo apriamo la freccetta in vita ed eccoci qua su youtube si trovano tantissime recensioni di questa tecnologia di borraccia l'air up ultimamente ho visto il video di yakidale e devo dire che mi ha davvero incuriosito e quindi ho deciso di prenderla vediamo rapidamente come è fatta subito troviamo un ripetito di istruzioni nelle varie lingue per fortuna c'è la lingua italiana si i penultimi ma ci sono poi andremo a vedere il funzionamento qui troviamo un lab borraccia in tutto il suo splendore o non questo lo giudicheremo poi nei giorni prossimi un volucro di carta bella ho presa grigia fumè con la maniglia arancione ok poi capiremo il funzionamento e soprattutto le sensazioni d'uso qua troviamo una confezione con 5 pod con gusti assortiti i gusti sono pesca, wild berry, vaniglia arancia, altre pesca, angolia e raspberry e limone vi proveremo e vi farò sapere cosa io penso questo era un rapid unboxing ci vediamo nei prossimi giorni per la recensione finale ciao bello iscriviti al canale iscriviti al canale